Sono associazioni laiche e religiose in campo al fianco dei più bisognosi. E a Marano nasce la Christian House, una struttura messa a disposizione dagli evangelici per l'accoglienza dei più bisognosi. Massimo Calenda. Una struttura pensata e voluta dalle chiese evangeliche per aiutare chi è in difficoltà. Un supporto per i nuovi power, soprattutto italiani, che possono trovare non solo un momento di accoglienza e di ristoro, ma anche un sollivo concreto, in un momento difficile della propria vita. Nasce con questi obiettivi la Christian House a Marano, per ridare speranza a quanti soffrono. Questa struttura nasce proprio dall'esigenza di aiutare chi è più prossimo a noi, il nostro vicino, il nostro parente, quelle persone che ci sono prossime anche fisicamente e che oggi sono i nuovi poveri, che non arrivano a fine mese, che non riescono a pagare le bollette. E questa struttura si rivolge anche a loro. Chiediamo ciò che è necessario. Alimenti, vestiti, un'emergenza abitativa per massimo tre mesi possono vivere qui, possono prendere gratuitamente vestiti, gratuitamente del cibo e possono avere quel sostentamento per arrivare a fine mese. Il nostro non è uno slogan retorico, ma trae spunto dal Vangelo, che ci comanda di amare il nostro prossimo. Questo è uno slancio di fede verso chi vive una condizione di disagio non solo fisico e materiale, ma anche spirituale.